Oggi alle 18 nella Chiesa dei Catalani avranno inizio i sabati dell'Annunziata che si terranno in preparazione alla festività liturgica dell'Annunciazione del Signore alla Vergine Maria, patrona dell'omonima confraternita. Quest'anno il Rettore Monsignor Giuseppe Lasfeme, con il sostegno dell'Arci confraternita retta dal Governatore Sergio Mario Todesco, ha deciso di solennizzare l'annuale appuntamento della memoria liturgica della Santissima Annunziata nei sabato del 7, 14 e 21 marzo. In quest'ambito si terrà l'investitura di due nuovi confrati, a segno di vitalità e crescita dello storico sodalizio religioso messinese.